Siamo alla borsa della ricerca con Roberto Spogli che la prima volta 4-5 anni fa che è venuto qua è venuto qua con una start up che oggi invece è una vera e propria impresa e di cosa vi occupate? Avete un nome piuttosto difficile quindi lo lascio pronunciare a te e di cosa vi occupate? Come mai siete venuti qua la prima volta e come mai tornate a venire alla borsa della ricerca di Bologna dopo 4 anni quando siete una realtà ormai consolidata visto che mi sembra che state per aprire già addirittura degli spin off di uno spin off Buonasera, noi siamo venuti qui il nome della società è ProLabinet e Pharma siamo venuti qui la prima volta 4 anni fa e con quell'occasione abbiamo avuto un contatto che si è rivelato estremamente importante con la nostra società con un'azienda farmaceutica che si chiama Dompe Farmaceutici e con la quale abbiamo attivato un contratto ricerca che ancora oggi portiamo avanti e speriamo di uscire con questa società con un prodotto a breve e quindi per noi è stato veramente una cosa molto importante che ci ha aiutato anche da un punto di vista proprio di lavoro perché io mi ricordo che in quell'occasione eravamo a Milano alla borsa della ricerca che si faceva a Milano City alla fiera, al centro fieristico e lì noi torniamo a casa con 4-5 contratti non firmati però con grossi interessi da parte delle aziende e molti di questi si sono tradotti e concretizzati in lavori di cui alcuni vanno avanti fino adesso infatti con Dompe siamo ancora in contatti e oggi mi ritrovo qui un'altra volta molto soddisfatto perché abbiamo avuto molti incontri che hanno creato possibilità di lavoro possibilità di approfondimento hanno aperto strade e quindi la borsa della ricerca o forum della ricerca come si chiama adesso è un'occasione per chi fa ricerca o comunque chi cerca delle soluzioni innovative per avere una panoramica molto ampia in una giornata abbiamo fatto moltissimi incontri più altri abbiamo fatti durante il coffee break quindi senza soluzioni di continuità insomma non abbiamo perso tempo però in un'unica giornata si raccoglie moltissimo e voi di cosa vi occupate? in particolare farmaceutica? noi abbiamo un materiale che è quello che abbiamo ereditato noi giovani ricercatori da anni di ricerca all'università perché non dobbiamo dimenticare che noi come Spinoff Universitaria facciamo trasferimento tecnologico però questo trasferimento è stato possibile grazie alla ricerca di base fatta all'università dei studi di Perugia dal professor Costantino dalla professoressa Perioli che hanno lavorato su un materiale che si chiama idrotalcite sono dei solidi lamellari questo materiale sostanzialmente è un contenitore molto piccolo di dimensioni microscopiche che però ha dei ripiani potremmo dire nanostrutturati nanoscopici e la nostra capacità è quella di riempire questo contenitore con delle molecole di interesse che possono essere un farmaco possono essere un colorante possono essere un antimicrobico e poi questo materiale così caricato lo utilizziamo come veicolo in diversi campi di applicazione uno sono gli additivi per polimeri dove facciamo materiali per il ritardo di fiamma dei materiali per il packaging e materiali come implementatori di proprietà meccaniche e in questo ambito stiamo svolgendo due progetti europei con appunto parlando di materiali non strutturati poi ci rivolgiamo anche al mercato delle materie prime cosmetiche innovative effettivamente stiamo lanciando dei prodotti e ci dà delle soddisfazioni questo mercato perché finalmente dopo anni non solo di ricerca in laboratorio ma anche di ricerca di una strada commerciale adatta per i nostri prodotti siamo riusciti a creare delle linee che vengono vendute in farmacia abbiamo trovato dei rivenditori e dei distributori che ci danno fiducia e poi facciamo anche dei catalizzatori catalizzatori che sfruttano l'elevata area superficiale di questi materiali in riferimento a dei metalli che vengono caricati sui prodotti quindi infatti nanostrutturare dei materiali in questo caso vuol dire riuscire a far sì che ci sia una superficie utile maggiore quindi riescono a portare una quantità maggiore di principi attivi nel caso dei medicinali diciamo e quali sono le difficoltà strutturali che come start up inizialmente avete incontrato non so più era più difficile trovare dei partner industriali più difficile trovare dei finanziamenti e soprattutto poi dopo il primo passo quali sono le altre difficoltà che avete incontrato difficoltà ce ne sono tantissime è sempre peggio però ci sono anche soddisfazioni e inizialmente la difficoltà maggiore è quella di trasformarci da un'azienda che faceva ricerca e vendeva ricerca in un'azienda che faceva produzione e vendita di prodotti quindi le difficoltà da superare sono quelle legate innanzitutto quelle commerciali per cui il prodotto va saputo presentare in un certo modo va saputo insomma va fatto una comunicazione perché il fatto di avere un qualcosa che funziona un qualcosa che possa avere le potenzialità è molto ma non è niente prima bisogna riuscire a comunicare a creare dei materiali che convincano che questo prodotto è adatto e quindi le prime difficoltà sono state in questo nel creare un modo di informazione convincente sul prodotto poi abbiamo avuto le problematiche legate alla produttività ci siamo voluti indebitare acquistare dei reattori per poterle produrre abbiamo dovuto superare tutte le difficoltà che ci sono con una produzione che ha gli inizi quindi ogni step dalla sintese l'essiccamento al confezionamento insomma hanno le loro problematiche e poi un esempio tra i tanti è quello nel settore cosmetico dove noi abbiamo inizialmente frequentato delle fiere abbiamo fatto moltissima pubblicità ma questi prodotti non venivano capiti fino a quando non abbiamo compreso che ci sono poche persone che formulano i cosmetici cioè normalmente un'azienda che fa cosmetici si rivolge ad un esperto un cosiddetto formulatore che è un guru il quale come decide quali sono le materie prime che vanno lì dentro quindi se noi non avessimo alla fine raggiunto di formulatore l'avessimo convinto della buona dei nostri prodotti ancora saremmo in giro a proporli senza averne venduto nemmeno uno solo dopo molta esperienza abbiamo capito che era quella la strada per arrivare in quel mercato ad esempio quindi diciamo che nel vostro caso le barriere all'ingresso più che strutturali finanziarie e organizzative sono state di marketing da un certo punto di vista quindi riuscire a far capire agli altri cosa facevate voi perché spesso appunto per il mondo della ricerca all'interno del mondo della ricerca è tutto molto chiaro cioè il gruppo di lavoro sa benissimo quello che sta facendo ma fatica quasi a far capire quello che fa agli altri perché e invece poi dall'altro punto di vista è stato quello di trovare il canale commerciale giusto quindi da un lato marketing verso l'esterno e dall'altro marketing verso l'interno del mondo a cui voi intendevate rivolgermi e invece adesso quali sono i nuovi progetti che state sviluppando perché appunto ci parlavi di un nuovo spin off che state implementando beh sarebbe utile per la nostra società a questo punto creare una nuova società che si occupi di ricerca in maniera come dire quasi totale di ricerca e invece la realtà produttiva commerciale delegarla a quello che era originariamente uno spin off e così che le due società possono lavorare in sinergia quindi come dire mentre la società nuova si occuperebbe di sviluppare dei progetti ad alta innovazione invece la società vecchia si occupa invece più di una parte di produzione e commercializzazione e noi vediamo in questo dei vantaggi i vantaggi anche da un punto di vista fiscale anche da un punto di vista di poter avere accesso al credito anche per partecipazione a bandi come siete cresciuti nel senso quante persone occupate e come è cresciuto il vostro budget nel corso di questi anni da quando eravate start up ad oggi che siete una realtà consolidata noi siamo cresciuti lentamente molto lentamente e cominciamo a crescere lentamente cioè stiamo continuando a crescere lentamente spero che possiamo fare un salto di qualità importante nel prossimo anno nei prossimi due anni che significa per noi tornare a reinvestire perché abbiamo fatto questi investimenti nel 2010 effettivamente oramai siamo arrivati a un punto per cui le cose sono mature per poter investire di nuovo noi come classe di fatturato siamo circa sui 300.000 euro adesso e di addetti la società ce n'è un numero variabile che varia comunque più o meno una decina e questo è una soddisfazione per noi perché siamo riusciti a non andare via dal posto dove siamo nati dove abbiamo studiato e speriamo di creare un po' di occupazione anche per le persone che stanno intorno a noi insomma e idee nel cassetto perché ci dicevi reinvestire quindi vuol dire che qualcosa avete in mente di idee ce ne sono tante il problema è selezionare quelle più profittevoli e no diciamo che adesso in maniera molto interessante ci stiamo approcciando al mondo dei coloranti che è un mondo particolare quindi coloranti sia per la colorazione delle fibre tessili che utilizzano ad esempio dei coloranti naturali quindi che hanno delle problematiche legate alla stabilità legate alla fotodegradazione eccetera la solidità e poi dei coloranti invece possono essere utilizzati come pigmenti in vernici in creme quindi questo settore che non esisteva prima quello dei coloranti potrebbe essere molto interessante avete già trovato dei partner in questo senso o siete venuti qui a cercarli? no stiamo facendo un bando di sviluppo rurale un PSR con appunto dei materiali come la reseda come il guado come la parababiatura rossa per cercare di riuscire a renderli un po' più solidi questi materiali e abbiamo fatto anche un brevetto su questo un brevetto europeo quindi insomma già c'è un po' di ricerca adesso quello che è di nuovo è praticamente la parte commerciale di lancio di identificazione di targetizzazione del cliente di creazione del prodotto questo e chi vi affianca in questo percorso? abbiamo storicamente la tintoria Ferrini di Perugia con cui lavoriamo da tanto tempo per la parte del tinteggio abbiamo il gruppo di fotochimica della professoressa Latterini a Perugia che ci aiuta per la parte quindi di caratterizzazione fotochimica proprio qui al forum della ricerca abbiamo incontrato un gruppo di Salerno che anche loro lavorano con i coloranti naturali e quindi abbiamo creato un link che spero possa essere molto proficuo grazie e buona fortuna grazie a te benissimo grazie a te grazie a te grazie a te